Si è svolta nella Sala Convegni dell'Associazione Cultura e Sviluppo di Alessandria la Serata Benedicta 2015, organizzata dall'Associazione Memoria della Benedicta e dal Comitato Resistenza e Costituzione con l'Associazione Cultura e Sviluppo di Alessandria. La serata si è aperta con due incontri sul Centro di Documentazione Permanente della Benedicta e sull'arte contemporanea nei luoghi della memoria, seguiti dallo spettacolo Luigi e Stanco, teatro canzone scritto in occasione del settantesimo della liberazione. Non vi fanno un po' di dispiacere, due corpi in terra senza più calore, non cambierà, non cambierà.